Ciao a tutti, quali sono le città italiane più inquinate? Allora, il dossier ISPRA sulla qualità ambientale delle aree urbane, diciamo, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento, ha dato questi dati. Allora, sono 19 le città italiane dove sono stati registrati i valori, oltre alla norma giornaliera, di 10 pm, polveri sottili, con diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, al 10 dicembre 2018, una in più dell'anno scorso. Quindi, ad aggiudicarsi una maglia nera delle città più inquinate è Brescia, che ha sforato per ben 87 volte, seguita da Torino. E mentre invece la città campione, diciamo, dove non si è mai sforato il limite dell'inquinamento, è Viterbo. A rivelarlo è questa, appunto, edizione 2018 del rapporto ISPRA-SNPA sulla qualità dell'ambiente urbano, che prende in esame 120 città, 14 aree metropolitane, ed è presentato, diciamo, a Roma, a Palazzo Giustiniani, dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale. I dati sono preoccupanti se si considera che l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stimato che in Italia nel 2014 50.550 moti premature potevano essere attribuite all'esposizione a lungo delle polveri sottili e 17.290 al biossido di azoto e 2.900 all'ozono. Questi sono i dati. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao!